Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Oggi vi porto a Clusone, sono in Val Brembana, in provincia di Bergamo. Quello che vedete alle mie spalle è uno delle vie padelopedonali della cittadina. Molto molto carina, devo dirvi che si arriva percorrendo l'autostrada, direzione Milano-Venezia, e si esce a Bergamo e poi si sale in Val Brembana, diciamo che è una mezz'oretta da Bergamo. Vi segnalo qua da visitare sicuramente la Danza Macraba, l'orologio e ovviamente questa parte del centro, molto molto carina. Dove so stare? C'è un campeggio Pineta Clusone, che è esattamente un paio di chilometri prima della cittadina, ma la particolarità è che è collegato con una splendida ciclabile, che è fattibile sia con bambini, sia con adulti, sia con una mountain bike, e anche per chi non è molto allenato. Fuori dal campeggio si va direttamente nei boschi, proprio fuori dalla porta della vostra caravan. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, ciao a tutti!